Vedete questo zucchino? Eh, si vede benissimo se lo vedete confrontato agli altri zucchini si vede quanto è lungo, no? E praticamente io sono andato a vedere nel Guinness lo zucchino più lungo del mondo era un metro e sedici, mi pare, un metro e sedici e quindi praticamente io volevo misurare questo zucchino che mio zio ha fatto crescere nell'orto, eccetera ma se no che passa una giornata, perché dopo lui aveva detto al massimo questo qua non cucinatelo magari lo tenete da qualche parte, esposto, eccetera comunque io volevo fare quella cosa di misurare con il metro, no? in un video e vedere che lunghezza era, no? Comunque è andata così, adesso vi spiego una giornata mi alzo e ebbene sì mia mamma l'aveva già fatto fette e già cucinato trifolato e niente, quindi ce lo mangeremo comunque io ho detto ma poi alla fine l'avevi misurato e mi ha detto che era un metro e qualcosa ma non arrivava a un metro e sedici quindi non sarebbe non sarebbe stato la zucchina più lunga del mondo ma magari ci andava vicino pazienza ci mangeremo la zucchina zucchina, zucchino, zucchinino quello che è ciao